Anche per quest'anno ragazze ci han fregato, con tutte le sue chiacchiere in grisaia ci han mandato. E noi povere donne ci tocca lavorar per mantenere i ricchi al suo paese a passeggiare. E noi povere donne ci tocca lavorar per mantenere i ricchi al suo paese a passeggiare. Ci sono dei padroni che sono un po' incoscienti, comandano, bestemmiano con la bava fra i denti. Dicendo a queste donne il lavoro non lo sanno far, dovrebbero far presto come il treno camminare. Si parla del trapianto, l'è una cosa da spavento. Loro vogliono le file dritte anche se siamo in duecento. Se c'è una povera donna che la si sente mal, vanno con rallentamento per portarla all'ospedale. E tutto quel sudore che noi qua giù prendiamo, saranno poi le lacrime dei figli che abbiamo. Grideranno mamma, vogliamo da mangiare. Allora lotteremo per lavoro e libertà. Grideranno mamma, vogliamo da mangiare. Grideranno mamma, vogliamo da mangiare. Lotteremo allora per lavoro e libertà. C'è poi un'altra cosa da fare ben presente. Con pane, vino e vitto non si capisce niente. E riso è sempre riso, con acqua in quantità. E scelva al governo coi signori a consolar. E riso è sempre riso, con acqua in quantità. E scelva al governo coi signori a consolar. Lo bene, è la flotta. E faccia a scelviare. E scelviare. E seva conpetiva. E sectioni meg